Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video ragazzi, in questo nuovo video tutorial ti spiego come risolvere l'errore del VGC ovviamente per abilitare questo servizio in passato ho realizzato una guida su come abilitarlo ovviamente c'è pure un altro modo per abilitare questo servizio quindi in passato ho realizzato una guida su come risolvere un errore su Valorant e sono andato direttamente sul BIOS e da lì in poi ho abilitato così il Security Boot e attraverso il Security Boot ho abilitato anche il TPM 2.0 ti consiglio di guardare questa guida che ti potrebbe veramente servire e che così facendo puoi abilitare il Security Boot TPM 2.0 che va richiesto veramente su moltissimi giochi quindi risolverai anche un errore veramente fastidioso come l'errore 1067 che esce sempre su Valorant e così facendo avrai anche il servizio VGC quindi in questo caso andiamo tasto destro quindi andiamo a cliccare tasto destro su tasto start questo logo andiamo a fare sempre se c'è qua qui non c'è quindi andiamo sulla barra della ricerca e andiamo a scrivere configurazione di sistema ora andiamo un attimo su servizi nasconde tutti i servizi Microsoft scendiamo fino a giù e come puoi vedere qui c'è il servizio VGC se c'era così su servizi per farti vedere su servizi eccolo qua se non c'era la spunta su questa casella significa che il VGC nel servizi non c'era e se non c'è proprio anche con la casella spuntata vuol dire che devi guardare per forza quella guida per abilitare il security boot il TPM 2.0 per sicurezza che è una sicurezza per il processore e ovviamente se vai a cliccare su questo VGC dovrebbe poi uscire sulla casella dei servizi e fare applica una volta fatto applica non riavviare ora io non lo voglio riavviare adesso andiamo sul servizio di VGC basta che scrivi servizi scendi fino a giù fino a trovare questo servizio ci clicchiamo sopra e tipo di avvio metti automatico e poi stato del servizio clicca su avvia io adesso lo tengo già in esecuzione quindi lo tengo così come sta non tocco più nulla e faccio applica in caso contrario commenta se hai problemi guardati quel tutorial così facendo potrai risolvere questo problema subito subito velocemente se ti è stato utilissimo questo video ti consiglio di iscriverti attivare la campanellina rilasciare un like e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao